Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rassegnati, il podcast di Feff Academy. Rassegnati siamo noi tutti, a cui tocca tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'informazione spesso pilotata e o incompetente dei nostri giornali mainstream. Io sono Matteo Bernabè, giornalista che per Feff Academy cura la parte informativa. Questa è la rassegna stampa di martedì 24 gennaio 2023. Buongiorno ancora a tutti. Stamani partiamo, come al solito, con il Corriere della Sera, la prima pagina. Andiamo a vedere le prime pagine dei nostri meravigliosi giornali mainstream. Il Corriere della Sera apre con gli accordi in Algeria da parte della Premier Giorgia Meloni. GAS 5 accordi anti-Russia, è il titolo del Corrierone. La UE dice nuovi aiuti militari a Kiev e il ministro degli esteri, Lavrov, risponde. La guerra con l'Occidente è quasi reale. Meloni firma i progetti ad Algeria, Descalzi è l'amministratore delegato di Eni, liberi da Mosca nel 2024 e dalle 19 di oggi benzinai in sciopero. Accordi strategici firmati ad Algeria dalla Premier Meloni per liberarsi dal gas di Mosca nel 2024, scrive il Corriere. Descalzi dell'Eni dice Italia snodo cruciale e intanto in Europa c'è l'accordo tra 27 paesi per un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina del valore di 500 milioni. Bene, continuiamo a mandare soldi e armi. Da Berlino partono due batterie di missili Patriot diretti in Polonia. Dura la risposta della Russia. Il conflitto con l'Occidente è quasi reale. Ora, su questa cosa degli accordi antirussia, cosiddetti antirussia, come li chiama il Corriere della Sera, qui si parla, si sta parlando anche sugli altri giornali di indipendenza energetica che non è di fatto poi alla fine questa roba qui un'indipendenza. Chiaramente è per liberarsi dalla dipendenza della Russia però diventi poi alla fine dipendente di un altro paese che è appunto l'Algeria. E poi c'è da aggiungere un'altra cosa che sintetizzo con una battuta che ho recuperato dall'account Twitter, diciamo parodia, insomma in qualche modo ironico, che si chiama Paolo Savonarola che dice Giorgia Meloni in Algeria ha firmato numerosi accordi per le forniture di prodotti energetici col paese nordafricano e l'inizio di una proficua e sincera collaborazione almeno fino a quando gli USA non ci ordineranno di sanzionarli e inviargli armi contro e effettivamente è una riflessione, cioè è una battuta questa però che ci dice tanto nel senso che l'Italia di fatto è un paese a sovranità limitata, l'abbiamo visto insomma nell'ultimo anno soprattutto questa cosa è risultata palese in una maniera impressionante anche se chiaramente non è che siano diminuite negli anni le basi americane sul suolo italiano sono circa 100, sono oltre 100, sono 110, 111 mi pare qualcosa del genere quindi 111 basi americane sul territorio italiano e questo ci riporta un po' a quello che leggevo l'altro giorno non mi ricordo sui social, non so se non mi ricordo se su Facebook, Instagram o Twitter comunque qualcuno evidenziava il fatto che l'Italia di fatto non è tanto un alleato degli Stati Uniti bensì una colonia, nel senso che gli Stati Uniti hanno 100 e passa basi militari in Italia l'Italia negli Stati Uniti non ha alcuna base militare quindi di fatto qui c'è una sorta di occupazione che ovviamente sui giornali non viene minimamente menzionato questo aspetto però è una cosa che influisce, influisce e tanto e lo vediamo sulle decisioni politica estera su tante cose relative alle decisioni che prenderebbe in autonomia il governo italiano non c'è alcuna autonomia e ovviamente c'è una sovranità ed una democrazia limitata in Italia dovuta a questo fatto soprattutto qualcuno a questo punto potrebbe dire eh ma ti piacerebbe stare anzi sotto la Russia no, questo no, è chiaro è chiaro che questo non piacerebbe un paese completamente indipendente da questo punto di vista che non abbia militari stranieri in nel proprio nei propri confini questo mi piacerebbe ehm e mi potrebbe anche andar bene questa cosa fino a quando però non ci vado a rimettere io come cittadino non ci vadano a rimettere le famiglie che devono arrivare a pagare bollette triplicate eccetera eccetera no, io quando iniziano diciamo questi tra virgolette accordi a influire negativamente eh sul tenuta sociale ed economica di un paese allora inizio a eh alzare la cresta e mettere in dubbio e ehm far notare certe cose che gli altri diciamo così non ehm tengono ben nascoste sulla questione sempre politica estera, geopolitica eccetera devo segnalare sulla prima pagina del Corriere della Sera la questione legata a ehm all'editoriale che eh mette in campo Federico Rampini che scrive Federico Rampini ehm neocolonialismi il grande gioco africano e ehm diciamo che c'ha qualche spunto interessante questo ehm questo ehm diciamo editoriale di Rampini è il momento dell'Africa scrive Rampini contesa da tutti la missione di Giorgia Meloni in Algeria avviene mentre i leader del mondo intero corteggiano questo continente da nord a sud tra le ultime visite importanti il nuovo ministro degli esteri cinese quello russo e la segretaria del tesoro americana l'Africa attrae per ragioni evidenti a risorse naturali immense dall'energia fossile alle rinnovabili dei minerali all'agricoltura malgrado la nostra visione pauperistica e catastrofista è un mercato in espansione in un mondo dove la crescita demografica è arrivata anche in Cina è una delle aree dove la popolazione cresce ed è giovane è una posta in gioco nella divisione del pianeta in aree di influenza geopolitiche ecco ehm questo ci dà un'altra misura no ehm e ci va un po' a smentire quella che è eh quello che diciamo è un po' la la narrazione no di questi di questi insomma dei decenni passati sostanzialmente che l'Europa sarebbe al centro del mondo che tutto avviene in Europa gli altri paesi sono sostanzialmente tra virgolette eh terre da conquista sostanzialmente e invece non è così insomma ci sono altre zone del mondo che eh diciamo non sono isolate da un certo punto di vista e dall'altro stanno iniziano diciamo a voler dire la loro per questo si sta eh ci sono questi diciamo momenti ehm eh critici no perché si sta passando di fatto da un mondo unipolare che è quello sostanzialmente governato dagli Stati Uniti a uno multipolare di cui abbiamo già parlato anche mi pare ieri nei giorni scorsi insomma e questo ci dà la misura questo diciamo eh punto di rampini ci dà un po' la misura eh mette il focus mette diciamo il riflettore un po' sull'Africa che è una terra appunto da da guardare con attenzione ehm visto che anche gli altri poli che non sono appunto gli Stati Uniti stanno guardando molto a quel paese allora andiamo avanti su Repubblica che apre invece con la questione di eh Nordio del delle intercettazioni Meloni frena Nordio al titolone la Premier interviene sul giro di vita minacciato dal guarda sigilli e impone lo stop agli scontri con i PM antimafia intanto slitta il DDL sull'autonomia regionale del ministro Calderoli i governatori del sud sul piede di guerra contro il progetto e poi rottura tra il governo e benzina e da stasera lo sciopero di 48 ore ora su questa storia qua delle intercettazioni io nel senso ehm dico la mia da giornalista contro diciamo anche il mio interesse no? di giornalista anche se diciamo io non mi occupo di cronaca giudiziaria quindi non 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 sono mai entrato in quei in quelle dinamiche eh però è un fatto eh la questione che eh spesso escono troppe intercettazioni telefoniche che poi estrapolate da un certo contesto possono dare paradito ad altre diciamo illazioni pensieri e che 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 poi eh si tratta di eh no? attaccare in qualche modo le vite e i vissuti di altre persone che possono essere chiaramente danneggiati da questo ehm quindi eh ora sul fatto delle della limitazione delle intercettazioni io diciamo secondo me potrebbe anche non esserci questa limitazione dal punto di vista dei degli inquirenti ci dovrebbe essere invece un controllo molto più rigoroso con pene molto più severe per quelli che fanno uscire certe intercettazioni che vengono pubblicate a destra e manca poi alla fine anche perché poi si sa a livello di procure eccetera diciamo eh i giornalisti ci girano quindi diventano amici anche in qualche modo eh dei 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 pubblici ministeri eccetera e quindi è facile che queste cose possano no? uscire però bisogna cioè bisognerebbe limitare anzi questo genere di cose che non magari le indagini eh sulle eh sulla questione intercettazioni eh sulla Repubblica mi sembra che non ci sia nient'altro da segnalare passiamo sulla stampa sulla stampa eh che riprendiamo un po' il discorso che facevamo prima riguardo la questione eh rapporti tra Italia e Stati Uniti no? perché qui c'è un articolo che dice seppure gli USA coprono gli assassini di Regeni hanno ragione i genitori di Giulio Regeni ad affermare che la collaborazione dell'Egitto è inesistente per le indagini relative alla morte del figlio rapito torturato e assassinato al Cairo ormai sette anni fa e hanno ragione a sentirsi insultati per le ennesime promesse di giustizia che al Sisi che il presidente egiziano avrebbe fatto al ministro degli esteri italiani e però il titolo qui è diciamo è importante secondo me da segnalare seppure gli USA coprono gli assassini di Regeni e sì perché qui siamo siamo in presenza chiaramente essendo noi un paese a sovranità limitata è logico che poi anche questo genere di cose è sottoposto diciamo al vaglio di Washington alla fine e questo articolo insomma ci spiega un po' il perché voglio sommessamente ricordare sulla questione sempre rapporto Italia Stati Uniti diciamo i trattamenti diversi trattamenti in cui vengono trattati per esempio anche i i carcerati o i condannati negli Stati Uniti c'è per esempio voglio tirar fuori il caso di Chico Forti che sono 20 anni che è stato accusato di omicidio ed è sono 20 anni un italiano 20 anni in un carcere in Florida ok mentre Amanda Knox accusata dell'omicidio Kercher eccetera l'omicidio di Perugia famoso è rientrata negli Stati Uniti e sta facendo di fatto la bella vita da quelle parti là e questi sono i rapporti di fatto siamo una colonia degli Stati Uniti e siamo diciamo un paese a sovranità limitata e questa è l'ulteriore conferma anche sul caso Regeni proseguiamo sul sole 24 ore ci sono due cose piuttosto interessanti si apre il sole 24 ore apre con la questione del del piano con diciamo presentato dalla Meloni per l'Algeria il piano Mattei no anche qui si va a tirar fuori Mattei però non si dice nulla no la Meloni incensa tanto Mattei però non dice nulla tiene la bocca ben chiusa su chi ha fatto fuori Mattei vedi sopra vedi i rapporti di cui discutevamo sopra no ecco il piano Mattei per l'Algeria appunto probabilmente Giorgia Meloni probabilmente sicuramente Giorgia Meloni non parla di chi ha fatto fuori Mattei perché evidentemente sarebbe un imbarazzo visto che diciamo visto visti i rapporti con gli Stati Uniti e va bene le due notizie invece che ho selezionato sono interessanti vabbè una ne avevamo già accennato qualche giorno fa successo oltre le attese per il bond retail dell'Eni cioè le obbligazioni emesse da Eni domanda per 10 miliardi domanda record per il bond retail legato a obiettivi di sostenibilità con tasso al 4,3% emesso da Eni oltre 10 miliardi di euro da oltre 300.000 investitori e su questo avevamo detto l'altro giorno lo ricordo per chi non 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 quello quello che avevamo detto pochi giorni fa nel podcast che praticamente ci ha avuto un grande successo questo questa emissione obbligazionale da parte di Eni ma anche perché spesso ci sono le stesse banche gli stessi addetti della banca che praticamente consigliano consigliavano questi questi bond dicendo che erano più sicuri sono più sicuri di di quelli dei titoli di stato italiani ed è vero di fatto di fatto è vero di fatto è vero se ci segui da un po' se hai seguito i nostri videocorsi se hai frequentato i nostri videocorsi i nostri corsi o hai seguito i nostri la nostra attività divulgativa i nostri video eccetera eccetera sai anche puoi arrivarci benissimo sul perché insomma molto banalmente lo dico molto in maniera stringata perché sostanzialmente l'Italia non ha lo stato italiano non ha una banca centrale che garantisce in toto il proprio debito pubblico e dall'altra parte c'è Eni invece che che ha diciamo degli asset molto importanti insomma tratta materie energetiche quindi di primo di primissimo piano quindi di fatto diventa più sicuro un bond Eni rispetto a un titolo di stato italiano cosa che non si potrebbe dire per esempio è un confronto che non si potrebbe fare questo tra un bond Eni e un titolo di stato americano per esempio degli Stati Uniti o della banca o dell'Inghilterra per esempio del Regno Unito ok visto che quelli hanno una loro banca centrale che garantisce in pieno il debito pubblico ok l'altra notizia sempre è legata alla questione banche centrali perché si è svegliato il governatore di Banca d'Italia Ignazzo Visco sulla BCE migliori la comunicazione diamo messaggi troppo duri ha detto ha rimproverato no la BCE come BCE bisogna migliorare la comunicazione stiamo dando messaggi troppo dure spaventiamo anziché accompagnare lo ha detto il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco meno male meno male che qualcuno lo dice questa cosa però nonostante ciò nonostante ciò la Lagarde da Francoforte conferma la linea da Falco scrive il sole 24 ore l'inflazione di fondo sale ancora quando l'altro giorno ci stavano dicendo che la situazione stava diciamo migliorando vabbè vedremo come andrà anche perché l'abbiamo detto le previsioni qui nessuno in pochissimi le hanno azzeccate negli ultimi decenni abbiamo fatto un video specifico qualche anno fa che riguardava appunto le previsioni che venivano fatte e continuamente disattese dai dati reali e abbiamo spiegato perché quindi lo potete andare a ritrovare nel nostro archivio video sicuramente su facebook sul messaggero invece ho selezionato questa notiziola che è l'unico giornale diciamo mainstream che riporta questa notizia chiaramente le notizie importanti vengono messe in basso a destra e a volte non appaiono neanche in prima pagina amatrice sepolta dalla neve incubo fiumi fiumi nelle marche il maltempo sferza il centro Italia scuole chiuse scatta l'allarme maltempo in tutto il centro Italia scuole chiuse per le nevicate allerta fiumi nelle marche incubo gelo nelle zone del terremoto ad amatrice la neve ha raggiunto il metro di altezza il sindaco dice abbiamo mezzi insufficienti a Norcia invece sommerse le casette d'emergenza quindi cari amici da sei anni queste persone si stanno ritrovando a dormire a vivere in queste casette di fortuna e tutti si sono dimenticati di fatto di quello che è successo dopo con il terremoto del 2016 che ha colpito quelle zone del centro Italia e ovviamente poi per le armi all'Ucraina e i pacchetti di aiuti da un miliardo quelli arrivano velocemente e a questo proposito voglio leggere un tweet che mi è scorso davanti nei giorni scorsi che voglio riportare che è perfetto da inserire in questo contesto nel senso che questo scrive direi che dopo covid e Ucraina possiamo serenamente dire che non è che i soldi erano finiti semplicemente il nostro lavoro la nostra salute la nostra serenità non erano una priorità ecco cari signori di Amatrice cari cittadini di Amatrice e di Norcia non siete una priorità è evidente cioè è evidente perché sei anni non si possono lasciare le persone in quella situazione ok quindi non è i soldi i soldi lo ripetiamo se un governo vuole i soldi li trova se c'è la volontà politica di aiutare delle popolazioni i soldi ci sono è ovvio che quando ci utilizzano la scusa che non ci sono i soldi è perché loro non vogliono politicamente aiutare su questo non c'è il minimo dubbio allora andiamo avanti passiamo sul invece sul giornale non c'è nulla diciamo da segnalare andiamo avanti andiamo avanti su libero su libero su libero che apre invece di solito libero non lo metto in rassegna per oggi sì perché dà una notizia che gli altri hanno un pochino messo a latere che però è importante riprende un po' il discorso che facevamo anche ieri sulla questione aiuti di stato che gli stati uniti stanno diciamo erogando alle proprie imprese per sostenerle in qualche modo dall'impatto diciamo della crisi inflattiva eccetera eccetera Germania sleale Panzer Meloni contro Berlino Germania sleale è un virgolettato che riporta appunto le parole della Premier concorrenza sleale che indebolisce il mercato interno e rischia di far saltare l'Europa dopo mesi che tutti ci girano intorno facendo trappelare dissensi e malumori Giorgia Meloni ieri è andata dritta al punto il bazooka tedesco da 200 miliardi per mettere in sicurezza le sue imprese associato all'ostinata seppure negli ultimi tempi gonfamente mascherata ostilità di Berlino nei confronti di qualsiasi iniziativa per fronteggiare i colpi dell'inflazione costituiscono una minaccia anche per l'Italia sostanzialmente e quindi Libero riporta questa notizia che secondo me è un po' è importante nel senso che poi alla fine la Germania cosa dice cioè qui chiaramente in maniera implicita facendo queste politiche di aiuti di Stato alla fine sostanzialmente ci dice che l'Unione Europea è un carrozzone come dicevamo ieri che serve che non è utile in queste situazioni in cui bisogna intervenire con velocità ed efficacia ok però dice Germania sleale no Germania fa i suoi interessi inizi la Meloni a fare gli interessi dell'Italia ascoltando meno quello che arriva da Washington e da Bruxelles magari e sulla questione sulla questione sulla questione gita ad Algeri visita ad Algeri da parte di Giorgia Meloni il fatto quotidiano nella notiziola che riporta sopra la testata scrive da oggi benzina in sciopero intanto Meloni va in gita ad Algeria a firmare vecchi patti già disattesi ma la linea sull'energia la decide descalzi confermato all'Eni quindi ecco il fatto quotidiano per esempio ci dà un elemento in più cioè che Meloni è andata ad Algeri a firmare dei vecchi dei vecchi patti che erano già stati disattesi appunto diciamo come avevamo già detto a suo tempo nell'intervista ad Antonio Rizzo sulle questioni energetiche eccetera qui si fanno tanti proclami però alla fine il concreto stenta un po' a mettersi in moto no? e poi ad arrivare alla fine vedremo cosa porteranno questi 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 accordi sicuramente lo chiederemo ad Antonio Rizzo nell'intervista che gli faremo il mese prossimo l'altra questione l'altra questione che ho selezionato sulla prima pagina del Fatto Quotidiano riguarda l'intervento del generale Bertolini che quando ha iniziato che era stato ascoltato molto all'inizio diciamo dell'invasione russa in Ucraina come diciamo persona come tecnico per insomma raccontarci dal suo punto di vista secondo la sua esperienza quello che stava accadendo in Ucraina poi quando ha iniziato insomma questo generale Bertolini a mettere in dubbio un po' le politiche di fornitura continua di armi eccetera eccetera e chiaramente è stato un po' estromesso dal mainstream mediatico quindi siamo in guerra aperta dice Bertolini relativamente chiaramente alla vicenda Ucraina che però non ci riguarda lui dice siamo in guerra aperta però questa roba qui non ci riguarda dice il generale Bertolini e per questo è stato chiaramente estromesso e non si vede più né in televisione e non si legge più sui giornali a parte diciamo qualche intervento appunto sui giornali un po' più piccoli che gli danno spazio chiudiamo con la verità che c'ha tre notizie abbastanza interessanti allora l'apertura è dedicata alla questione cinese la pronosticata ondata che non c'è tanto terrore per nulla il titolone ha sei colonne della verità crollano i già bassi numeri di contagi morti e ricoverati per covid soprattutto nelle terapie intensive smentite le catastrofiche previsioni lanciate dalle videostar tra una candidatura e un anatema nei confronti dell'alcol forse adesso ci lasceranno in pace intanto scandalo a lei ma chi dovrebbe tutelare i pazienti è a libro paga delle case farmaceutiche ma guarda un po' chi l'avrebbe mai detto il terrore corre fra i virologi non per il covid ma per la minor letalità del covid scrive Maurizio Belpietro da quando le statistiche dei malati di covid hanno preso a smentire le loro catastrofiche previsioni gli esperti in servizio permanente nei talk show serali non sanno più a che santo votarsi soprattutto come riempire le giornate perché nessuno chiede più il loro parere Fabrizio Perigliasco prezzemolino di ogni salotto tv al pari del suo amico Andrea Crisanti con cui ci si esibì in un memorabile jingle bell suonando le campane per il vaccino si è buttato in politica mettendosi in lista con Pierfrancesco Maiorino candidato del PD alla regione Lombardia l'altra questione che ho selezionato sulla verità è relativa alla questione energetica un altro diciamo vista da un altro punto di vista che secondo me è comunque interessante l'Italia hub europeo dell'energia riporta il virgolettato della Meloni paesi del nord pronti allo sgambetto il premier dall'Algeria lancia il piano Mattei ma abbiamo bisogno di USA appunto di Stati Uniti ed Egitto scrive la verità perché chiaramente ci sono i paesi del nord che chiaramente perderebbero la centralità nel momento in cui diciamo andasse a buon fine questo piano diciamo annunciato da Giorgia Meloni nel senso che se l'Italia dovesse diventare davvero un hub europeo dell'energia cioè dal quale passerebbe gas e altre forniture è chiaro che il potere da parte dei paesi del nord perderebbe e questi non ci stanno è chiaro che alla fine di tutta questa storia saranno gli Stati Uniti a decidere come riporta appunto correttamente la verità ma abbiamo bisogno di Stati Uniti ed Egitto Stati Uniti io direi principalmente perché poi le cose si fanno se gli Stati Uniti danno l'ok altrimenti tutti fermi l'altra notizia che metto in evidenza è a fondo pagina riguarda diciamo i vent'anni dalla scomparsa dell'avvocato Gianni Agnelli il patron della Fiat di fatto che però fortunatamente qualcuno nel senso non usa solo toni incensanti nei confronti di Agnelli sì che è stato un grande personaggio insomma eccetera eccetera però qui dice dopo vent'anni continua l'autocensura su Agnelli scrive la verità i ricordi dell'avvocato grondano saliva silenzio invece sull'evasione record con soldi pubblici e questa è una delle storie no che di cui insomma c'era stato di cui era stato in cui era stato coinvolto appunto era stata coinvolta la Fiat Agnelli eccetera eccetera anche questioni legate all'evasione fiscale però qui anche il presidente della Repubblica ieri mi sembra sulla prima pagina di Repubblica usava toni lodevoli nei confronti di Agnelli vabbè nulla nulla di cui stupirsi insomma l'ipocrisia l'Italia è il regno dell'ipocrisia questa era l'ultima notizia per oggi grazie per averci seguito questa era la rassegna di martedì 24 gennaio 2023 da Matteo Bernabè una buona giornata